Allora signore buongiorno, destinazione Siena Siena? Siena? Che dice Maurietto? C'ha fame? Andiamo a Perugia? Sì, io ho detto Umbria perché sapete che io ho un debole per l'Umbria Eppure io che c'entra, però il signore qui ha detto Siena, l'autista Oh, se volete cambia, vado a Perugia? Perugia proprio no Bettolle? Sì, c'è tanti Bettolle, che va a fare Bettolle? Bevagna? Bevagna è carina Casco dell'acqua? Casco dell'acqua? Dove vado io? Vado l'acqua, c'è un cazzo di freddo Oh, decidetemi Siena Perché la sera è quella, o esco a Orte o esco a Siena Eh certo Andiamo a Siena, vai Vabbè, destinazione Siena va Va bene Ma fa un po' di foto lì ad Andessia, lì a Siena, a Pienza C'è stanno quelle terre senesi con quei pini molto belle, lì per fare le foto è bello Sì, bisogna andare allora Ma è là Ma è là? Ma è là Allora, cari signori, dove siamo arrivati? Siamo arrivati? Siamo arrivati in Toscana Siamo arrivati in Toscana In Toscana Siamo arrivati in Toscana Lo vedi? E quindi, ma quanto manca ancora? Ancora? Ancora, io ando in Toscana Un'ora Le 10 e 28 Sì Adesso c'è il cartello, diciamo, dove siamo arrivati eh Vediamo, dove siamo arrivati Vedete, vedete, vedete Vedete Dice che Chiusi Gianciano Chiusi Gianciano Andiamo alle terme No, no E terme va a chi mangia poco E c'è E c'è Il cetriolitto Ecco E Cazzo se che Sperio Vabbè, noi andiamo alle terme Vabbè Chiudo Bye Sperio 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 C'è il video ho messo Vabbè Non lo fanno salire perché tu fa più che Sì, è vero. Lei ci sta infortunando, adesso è una storia. Sì, è una storia, è una storia. Che cos'è che vuoi cercare? Ma che dicevi? Scusa, ripeti? Colazione l'avevamo fatta, grazie al campo l'avevamo vista, la pasticceria da Nannini l'avevamo vista, andiamo a cercare un posto per mangiare. A mo' di pistola. Eh, tiensi. Che c'è un po' se c'è. Selfie? Dove? Vai. Giorno, io sto là. Montevero, dove sei? Io ci sto, all'angolo, non ci sto più. Eh, perché... Girate là, seguite. E non mi seguire? Oh, ecco. No, no, seguite. È affezionata a me. Quale che stai riprendendo? Video, questo è il video. Anche la roba la mangiamo? Sì, no, andiamo... Buongiorno. 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 Buon appetito. Stiamo in socca, eh. Guarda che è stata fatta all'aria. Comune che ascia. Ma questa che è solo full HD? È 4K. Ah, è 4K? Eh, non sto registrando in 4K. C'è pure un hotel. C'è pure un hotel. Non ci stai. No, non puoi studerirliNatella. No, non mi sento. πε standpoint. No, non mi sento. No, non mi sento. No... Vai sei in quarto Tu un buona gastronomica Vai Dove stiamo? Dove stiamo? Dove stiamo Moretto? Siamo a Pienza Ridente paesino Nell'Erdia di Piane Ridente Rite tanto Non vedi Siamo andiamo di qua Perché lì poi torniamo Mauro Lì torniamo dove siamo entrati Facciamo il suo pezzetto al sole Pelle 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 Sì Mauro Llego a cosa lo stampa Allora siamo a Pienza Delissimo giornata Qui all'ombra fa fresco però va bene Mauro c'ha fame come al solito Ma quando è che non ha fame? Quando è che non hai fame? Quando è che non hai fame? Dopo mangiato Dopo mangiato non c'ha fame Dopo mangiato C'è l'autonomia di un'ora dopo mangiato E' come i bambini di fare la poppata ogni tre ore Porello Guarda che bell'argo che Natale fa tra le bottiglie Dove siamo? Siamo in via della Volpe Lei come si chiama? Mi chiamo la mia parente Mi chiamo Volpi Perché siamo cinque a casa Ah ecco Siamo cinque Volpi C'è anche il cane però E quindi Quindi? Quindi questa è una sola Volpe Una sola Volpe Ed è carina La Volpe è carina E anche te di gente Anche me Ma te sei una Volpe? Eh insomma Sono tre stessi riusciti con noi vero? Esatto Bravo 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 Mauretto che dici? C'è fame C'è fame C'è fame Sempre fame C'è fame C'è fame C'è fame Canfri dove siamo? Siamo in Val d'Orcia E stiamo tentando di fare una foto Carina Questi Questi Terreni ombreggiati Sembra tu nel deserto Sai quelle cose no? No? Sì Per il mondo di Quirk Quarche quarche Il nostro Gianfranco Angira Ci racconterà Le terre grenesi Permettilo Permetterlo No? Com'era? Se non lo sai te Qui qua qua Per il mondo di Quirk Quarche quarche Permettilo qui qua qua Ok E Campriano No E non lo so Potere Campriano No Forse non si potrebbero fare le foto Non lo più parlerete Siamo in Val d'Orcia Val d'Orcia Val d'Orcia Val d'Orcia Che ne so Non lo sappiamo Vabbè comunque Siamo venuti a fare un po' di foto Comincia a tramontare il sole Comincia a fare fresco Prima ce ne torniamo a casetta E basta Finito Finish Interrompo delle pompe Qui mi intento della revisiva Chiudiamo Per sempre? No Per ora Per ora Ok Ciao Ciao